Vi siete mai chiesti come un colore può trasformare non solo i capelli ma anche la percezione della nostra bellezza? E quanto sareste emozionati nell'incorporare una tonalità che comunica gentilezza, comunità e connessione nei vostri straordinari lavori? Amici parrucchieri ciao a tutti, oggi vi parlerò di un colore che non solo trasforma i capelli ma anche il modo in cui percepiamo la bellezza e il benessere. Sono Giussi Palmieri, fondatrice del brand Giussi Palmieri Air Color Trainer. La mia missione è guidare i parrucchieri nel perfezionamento delle loro competenze e nell'introduzione di nuove proposte nei saloni. Offro corsi in presenza direttamente nei saloni e videocorsi disponibili sulla Giussi Palmieri Academy, la mia piattaforma online. Vuoi scoprire di più? trovi il link in descrizione nei commenti. Su questo canale troverai video formativi, informativi, guide tutorial e sessioni di domande e risposte, tutti appositamente progettati per gli acconciatori. La domenica alle 11 pubblicherò nuovi contenuti. Se non vuoi perdere neanche un video ti suggerisco di iscriverti al canale e attivare la campanella in modo da ricevere le notifiche. Inoltre un regalo per te, un'utilissima infografica sulla colorimetria che puoi tenere a portata di mano sul tuo smartphone o appendere nel tuo salone. Puoi scaricarla gratuitamente cliccando sul link nel primo commento. Grazie per seguirmi e per essere parte di questa community dedicata alla perfezione della colorazione dei capelli. Sarà un viaggio emozionante e non vedo l'ora di condividere con voi le mie conoscenze ed esperienze. Oggi esploreremo insieme il colore dell'anno 2024, Peach Fuzz. Peach Fuzz, un'esperienza di tenerezza e condivisione. Immergiamoci in un mondo di dolcezza con il colore dell'anno 2024, Pantone Peach Fuzz. Questa tonalità pesca, vellutata e delicata, comunica gentilezza creando un messaggio di cura, comunità e collaborazione. Ma perché è stata scelta come colore dell'anno? Scopriamolo insieme. Perché Peach Fuzz è il colore Pantone dell'anno 2024? Ogni anno l'azienda americana Pantone assegna il titolo di colore dell'anno a una tonalità che diventa un faro di tendenza e stile. Questo appuntamento annuale con Pantone è una vera e propria dichiarazione di moda. Ma come avviene la scelta di Pantone? Dietro questa decisione c'è una squadra di esperti che si pone una domanda fondamentale. Di che cosa ha bisogno al mondo? La risposta sorprendentemente si manifesta in un singolo colore, una scelta che va oltre l'estetica riflettendo il bisogno collettivo e l'evoluzione delle nostre sensibilità. In questo contesto Peach Fuzz diventa più di un semplice colore, diventa un messaggio di emozioni e connessioni con il mondo che ci circonda. In un periodo di tumulto sentiamo sempre più il bisogno di nutrimento, empatia e compassione. Peach Fuzz riflette questo desiderio di connessione umana e di prendersi cura di se stessi. In un mondo che spinge per la produttività questo colore ci ricorda l'importanza di trovare momenti di tregua, creatività e connessione. Rivoluzioniamo il nostro modo di vivere, concentrando l'attenzione sulla salute mentale e fisica, apprezzando il calore dei rapporti umani e godendo di momenti di tranquillità. Peach Fuzz nei capelli e nella bellezza. E ora entriamo nel magico mondo in cui Peach Fuzz si fonde con la bellezza dei capelli. Questa straordinaria tonalità aggiunge un tocco etereo e luminoso donando ai capelli un bagliore rosato naturale che si armonizza con una vasta gamma di tonalità della pelle. Ma per esplorare ulteriormente le sue infinite possibilità andrò a fondo in questo affascinante argomento in un'intervista esclusiva con la consulente d'immagine Cristina Zarri. Continuate a seguirci per non perdere questa entusiasmante conversazione e per sbloccare i segreti per creare look incredibili con Peach Fuzz. Ed ora entriamo nella parte pratica. Come ottenere un riflesso Peach Fuzz perfetto? Possiamo personalizzarlo rendendolo leggermente più caldo o più freddo? Dopo aver esplorato l'incantevole mondo di Peach Fuzz è giunto il momento di portare questa magia nei vostri saloni. Ma come possiamo rendere il riflesso Peach Fuzz perfetto adattandolo alle esigenze uniche di ogni cliente? Rendilo caldo. Se desiderate una sensazione più avvolgente e calorosa potete personalizzare il Peach Fuzz aggiungendo leggermente più calore alla miscela. Questo tocco di calore può creare un effetto accogliente e vibrante perfetto per chi cerca un look solare radiante. rendilo freddo. D'altra parte se l'obiettivo è un look più fresco e sofisticato è possibile rendere il riflesso Peach Fuzz leggermente più freddo. Questo tocco di freschezza può dare ai capelli una luminosità elegante e contemporanea perfetta per chi vuole sfoggiare un look moderno e alla moda. Esploriamo insieme alcune miscele consigliate per ottenere queste sfumature di Peach Fuzz. Ora che stiamo per addentrarci nella pratica della colorazione Peach Fuzz è il momento perfetto per scoprire alcune miscele consigliate che vi aiuteranno a raggiungere le sfumature desiderate. Prendete nota e preparatevi a creare magia nei vostri saloni. Peach Fuzz Sunset Peach. Per un riflesso Peach Fuzz caldo e avvolgente provate questa miscela composta da un tocco di rosa pastello e una spruzzata di arancione. Il risultato sarà un caldo tramonto pesca che abbraccia dolcemente i capelli. Mix freddo Modern Elegance. Se invece puntate a un look più fresco e sofisticato integrate una nuance leggermente argentea. Aggiungete una piccola quantità di tonalità champagne per un tocco di eleganza moderna. Il risultato una sfumatura Peach Fuzz fresca e raffinata. Mix personalizzato Peach Fusion. Non abbiate paura di sperimentare e creare la vostra miscela unica. Mescolate tonalità pesca con riflessi personalizzati accostando ad esempio tonalità calde e fredde con un tocco di luminosità. Il risultato sarà una firma Peach Fuzz che si adatta perfettamente allo stile distintivo delle vostre clienti. Ora che avete scoperto come personalizzare il vostro Peach Fuzz vi chiedo avete mai desiderato creare un look unico in pochi minuti? Con la mia innovativa tecnica Tone on Tone del metodo Diagonal System potrete realizzare il vostro Peach Fuzz in modo rapido e preciso. Mescolate tonalità pesca, giocate con i riflessi personalizzati e ottenete una firma Peach Fuzz che si adatta alla perfezione allo stile distintivo delle vostre clienti. Vuoi vedere questa tecnica all'azione? Non perdere il mio video corso completo disponibile cliccando il link nella descrizione nei commenti. Vi guiderò passo dopo passo. Iscrivetevi ora per sbloccare tutti i segreti e le tecniche esclusive. Non perdete l'opportunità di offrire ai vostri clienti un look personalizzato e alla moda in pochi minuti. Cliccate sul link e iniziate il vostro viaggio verso la perfezione Peach Fuzz. E voi parrucchieri creativi siete pronti a mescolare e creare la vostra versione unica di Peach Fuzz? Condividete con noi le vostre idee e le vostre creazioni. Se volete ispirarvi ancora di più su come personalizzare le vostre proposte in modo unico, iscrivetevi al nostro canale YouTube e troverete suggerimenti per portare Peach Fuzz al livello successivo.